un fuoristrano. Cippone, cippone con l'aggino, con l'aggino, cippone. Eh, dì, non dì, cippone, no, cippone. Cippone, cippone. E ci dobbiamo andare a fare la barra adesso, è lunga, è molto lunga. Qui sono 7, 8, 9 giorni di navigazione. Vi devo dare una buona notizia, professor? Adesso la barca non vi serve più a niente, la dovete abbandonare. Ma io se posso cercare una nave, cercare una mattina. Lo circonevo perché le coste della Puglia, c'è tutto un quanto in vestito di prezzi. Prezzi, 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 Roman, Brewed change. Parate, che lo andoe l'ho pagato su porti, parate, parate. Ti fa musicaわ polítons. Eh certo, questo discito parlare. Cente tremenda, scoria dei loro prigionieri, devono il sangue, consumano orrendi ritti pagani. Adesso vi tocca raggiungere la Puglia a piedi. Vi alternerete sul muro? Decidiamo che comincia il turno sul muro per primo.